Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto amici e amiche di TV6, bentornati all'appuntamento col meteo. L'alta pressione africana avvolge quasi tutta l'Europa centro-occidentale e anche il Mediterraneo. Questa massa d'aria molto calda proveniente dall'Africa nord-occidentale e dal deserto del Sara occidentale si muoverà anche sull'Europa dell'est e avvolgerà tutta l'Italia per gran parte della settimana. Per quanto riguarda questo martedì 19 luglio, una giornata stabile, calda, con cielo sereno praticamente ovunque al mattino, poi nel pomeriggio qualche addensamento in montagna con qualche raro temporale, in particolar modo nelle aree più interne a confine con Lazio, fenomeni abbastanza isolati di breve durata che poi lasceranno nuovamente spazio al sereno. Le temperature stazionali e le massime tra i 32 e i 33 gradi, minime tra 19 e i 25 gradi. Ventilazione prevalentemente debole a tratti moderata dei quadranti nord-orientali. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.